Essendo 3G Electronics al distributore dell'ora aggiunto, i nostri clienti sono integratori principalmente audio video, ma anche adesso operanti nel mercato IT in cui vediamo una convergenza di intenti e di soluzioni per questo mercato che a volte vengono anche per fare training, per cercare di ampliare le proprie conoscenze, a volte portano con loro i loro clienti, quindi gli utenti finali che magari come sempre le idee non sono proprio precise sulla soluzione e quindi cercano di focalizzare le esigenze. In questa sala siamo in grado di far vedere il funzionamento e l'interazione tra tutti questi prodotti creando una soluzione finita appunto per una sala di controllo, quindi il video wall è gestito da un video wall controller basato su tecnologia Matrox, multi ingresso, multi uscita, a cui recentemente si sono aggiunte tecnologie come dicevo di video over IP, molto spesso queste sale di controllo sono richieste in ambienti di alta sicurezza, i dati, i flussi che passano sulla rete possono essere anche criptografati in modo tale da non essere fruibili al di fuori di queste tecnologie. Come prodotti digital signage in 3G abbiamo in distribuzione alcuni dei marchi più importanti a livello mondiale, tra cui BrightSign. Abbiamo anche negli ultimi anni come 3G Electronics in collaborazione con la società Wallin sviluppato il CMS WallSign, quindi una piattaforma in cloud pensata per il marketing e per le persone diciamo non tecniche, al fine di poter gestire in maniera semplice i contenuti da visualizzare sugli schermi. Tra gli altri dispositivi c'è sicuramente la soluzione NDS, NDS è una società olandese da 25 anni presente nel mercato del digital signage con particolare focalizzazione nel mercato delle corpore, in tutti quei contesti dove c'è la necessità di andare a leggere dei dati che provengono dall'esterno. Oggi le sfide del mercato del digital signage sono cambiate, stiamo andando ad aggiungere alla parte digital signage tutto l'aspetto legato all'analytics. Possiamo veramente capire se un determinato contenuto influenza la persona e la porta a compiere un acquisto, un'azione, invitiamo i partner, i clienti e chiunque è all'interno del mercato del digital signage a venire a trovarci perché insieme possiamo costruire quelle che sono le soluzioni e le risposte dei nostri clienti del domani. Grazie. 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 Grazie.